partiti partiti seconda parte post agricolturismo albireo antipasto primo tagliate alla ragù siamo arrivati al secondo allora come secondo c'avevamo crescentino tigelle affettato balavita affettato e sottaceti lo squaccherone lo squaccherone sì c'era la mortadella mortadella prosciutto crudo e la coppa salame la pancetta e le cipolle le viette le cipolle sottaceti quante mangiate di cipolle rosse? due sentire l'alito? questo era il secondo? finito? solo questo? poi è l'unica portata che non abbiamo finito perché i pasti e primi li abbiamo spazzolati e no no lascia stare paolini lascia stare paolini dopo di che siamo arrivati al dolce al dolce mascarpone ma quanto c'era di mascarpone? tipo una canestra per sei persone per sei ma quanti eravamo? hai già capito tutto con riporto di secondo me neanche protto quello e poi dopo mi ha preso il caffè però la mascarpone non si è riuscito a finirlo ne è rimasto un pochettino è rimasto un pochettino lui l'ha cacciato via no come hai cazzato io l'avrò mangiato stanotte? no no al cesso? eh no dopo no lo dà il giocatore del bologna che è rimasto bloccato con la Porsche lo dà curci dai lo dà curci esatto non gioca sì 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 e poi? e poi il caffè perché è la prima volta in 25 anni della mia vita che ti vedo bere il caffè normale alle 10 e 45 di sera sì esatto prendi sempre il caffè d'orzo sì esatto e sono commosso sì esatto di sfigato si segnata anche l'orario mazza caffè? mazza caffè non c'è niente? niente niente e abbiamo finito con uno già direbbe 30 40 euro 22 euro a testa che è una gran spesa per quello che abbiamo mangiato c'è la passò e porta ca e porta ca non devi baciare allo zio devi guardare la camera ciao saluta e il cerbiatto non ti dici nulla del cerbiatto tornando sulla strada di ritorno della casa abbiamo visto tre cerbiatti femmine? che cazzo ne so? con le corna? erano cerbiatti o cervi? cerbiatti con la polenta? con la polenta? no polenta oggi è il cretino come on get that grill